mi rivolgo a voi stasera non in veste di presidente degli stati uniti non come leader di una nazione ma semplicemente come essere umano ci troviamo ad affrontare la più spaventosa delle prove nella bibbia quel giorno è chiamato armageddon cioè la fine di tutte le cose eppure per la prima volta nella storia del nostro pianeta il genere umano possiede i mezzi tecnologici per evitare la propria estinzione tutti voi che ci accompagnate nella preghiera dovete sapere che tutto ciò che è possibile per evitare il disastro verrà fatto l'umano desiderio di emergere e di conoscere ciascuna tappa della scalata alla scienza ogni singola avventurosa frontiera vinta nello spazio tutte le conquiste dalla moderna tecnologia persino le guerre del passato tutto ciò ci ha fornito gli strumenti per combattere questa terribile battaglia nel caos che regna nella nostra storia tra i mille torti e le discordie tra immensi dolori e sofferenze attraverso i secoli c'è una cosa che ha elevato le nostre anime ed elevato la nostra specie dalle proprie origini e quella cosa il coraggio i sogni dell'intero pianeta stasera riposano in questi quattordici coraggiosi uomini che viaggeranno nello spazio non è un venditore ambulante quello è il tuo papà e speriamo di riuscire tutti i abitanti del mondo intero a vedere la conclusione di questi eventi buon viaggio e buona fortuna equipaggio freedom equipaggio independence è